La brutta notizia questa sera. Grande fratello, tremano le nona e la RAI, la decisione di Signorini. Le tre ex di nona e la RAI, trio composto da Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, rischiano la squalifica dal grande fratello. La nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ha preso il via il 16 settembre con un ricco cast di VIP e Nipe. Da qualche giorno è montata una polemica proprio sulle concorrenti del reality show in onda su Canale 5. Tutto è nato dopo le nomination della puntata del grande fratello andata in onda lunedì. Nomination che hanno scatenato, come sempre, diversi malumori nella casa più spiata d'Italia, Ilaria Clemente, una delle NIP del reality show condotto da Alfonso Signorini, è stata nominata dal trio di le nona e la RAI e alla fine della puntata si è mostrata molto delusa da questa votazione. Dopo la puntata Ilaria Galanzi ha spiegato di averla nominata in quanto nel corso degli ultimi giorni ha visto in lei un cambiamento. Grande fratello, il pubblico chiede la squalifica delle nona e la RAI per body shaming contro Ilaria Clemente, anziché trascorrere del tempo con tutti gli inquilini della casa, ha passato le sue giornate in compagnia di Jessica Morlacchi e questo suo abbandonare il gruppo non le è piaciuto. Dopo aver parlato con la Clemente, Ilaria Galanzi si è intrattenuta a discutere del fatto con l'amica Pamela Petrarolo e qui è stata protagonista di un gesto che ha fatto molto discutere. L'amica tua è saggia è? Ha detto Pamela Petrarolo scatenando la risposa di Ilaria Galanzi. Si però anche, ha detto muovendo le braccia come a fare il segno della persona sovrappeso. Il gesto della Galanzi non è passato inosservato e sui social è montata la polemica. Ovviamente l'attesa per la puntata di questa sera è tanta, perché secondo diversi utenti del web, per il trio, che gareggia come unico concorrente, potrebbe arrivare la squalifica. Ci rendiamo conto che siamo ad una settimana precisa dall'inizio e già si fa del body shaming? Chiocciola Grande Fratello Se questi sono i presupposti ci credo che gli ascolti sono un fallimento, e vi sta pure bene. Cancelletto Grande Fratello Ah e mi raccomando, fate finta di nulla come sempre, si legge su X. La derisione del corpo femminile da parte di un'altra donna, adulta peraltro, la trovo raccapicciante e vile, lo dico dal primo giorno che queste tre sono le peggiori lì dentro. Degna della scorsa edizione. E ho detto tutto. Quell'altra. Dopo quello che ha passato a insultare così una ragazza sovrappeso. Da squalifica. Vomitevoli, si legge ancora.